Buongiorno amici, bentornati sul canale. Giacomo Matteotti fu ucciso dagli squadristi fascisti. Una semplice frase, una verità storica, una constatazione che nessuno metterebbe in dubbio, ma che detta da Giorgia Meloni fa notizia. E perché fa notizia? E questa è la notizia. Perché un'ovvietà, una frase che riporta un fatto storico, acclarato, fa notizia, se detta da Giorgia Meloni, perché c'è un pregiudizio sulla destra in Italia. La destra per un certo mondo politico della comunicazione e culturale è legata al fascismo ed è impensabile che possa ammettere, dire o riportare i crimini fascisti condannandoli esplicitamente in un alto luogo istituzionale, come il Parlamento nel giorno in cui si ricordava Giacomo Matteotti. Insomma, Giorgia Meloni ha dimostrato non solo di essere all'altezza di ricoprire il grande incarico istituzionale che le hanno affidato, ma di essere persona seria e responsabile, capace di elevare il ragionamento istituzionale a favore della democrazia e non guardando a un passato che ormai per quasi tutti è chiuso, se non per una parte che vorrebbe utilizzare quel passato contro gli avversari politici, demonizzandoli perché magari potrebbero sembrare ancora vicini a quelle idee. Insomma, brava Giorgia, hai fatto bene secondo me, chiaramente ci saranno una parte di nostalgici che sapranno benissimo che tu non fai per loro, che tu rappresenti la destra democratica italiana. Complimenti, questo l'ho detto perché lo penso, mi sembra giusto oggi sottolinearlo, io come al solito ho detto la mia, aspetto la vostra sui commenti proprio su quanto affermato da Giorgia Meloni, se siete d'accordo con la mia analisi o se siete in disaccordo e perché. Scrivetela pure nei commenti, noi come al solito ci vediamo domani. Grazie a tutti.